Sono 385 nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo emersi dall'analisi di 5.276 tamponi in numero record di test eseguiti in un giorno. È risultato positivo il 7,3% dei campioni analizzati, con la percentuale però che scende al 5,02 considerando anche i tamponi antigenici, 2.398. 9 i decessi recenti, il bilancio delle vittime così sale a 1.462. Dei 9 decessi, 5 risalgono però ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle ASL. In crescita le terapie intensive che passano dalle 40 di ieri alle 43 di oggi, mentre resta stazionario il numero dei pazienti ricoverati in area medica, 389. La zona più colpita è ancora una volta l'area metropolitana, 54 i nuovi casi a Pescara, 23 a Montesilvano, 17 a Chieti, 16 a San Giovanni Tiatino, così come a Francavilla al Mare, dove oggi e domani si stanno svolgendo i test antigenici rapidi per lo screening predisposto da Comune ed ASL. A livello provinciale l'incremento più consistente si registra nel Pescarese, poi il Chietino a seguire il Terramano e l'Aquilano. A questi dati si aggiungono sei pazienti residenti fuori regione o la cui provenienza in fase di accertamento. In aumento gli attualmente positivi al virus, che sono 49 in più per un totale di 10.117. Al momento sono occupati il 22,75% dei 189 posti letto di terapia intensiva disponibili e il 26% dei 1.491 di area medica a fronte di soglie d'allarme, rispettivamente del 30 e del 40%.